E nuovamente con un post su Facebook che il sindaco di Andria Nicola Giorgino comunica il proprio disappunto nei confronti di alcuni dirigenti comunali. La mancata raccolta della frazione umida dei rifiuti ha mandato su tutte le furie Giorgino che a pochi giorni dall'azzeramento della giunta per le inefficienze di alcuni assessori, questa volta fa nomi e cognomi individuando nel dirigente dell'Aro l'ingegnere Antonio Di Bari, il responsabile dei disagi subiti dai cittadini oggi. Ma già al momento della comunicazione dell'azzeramento della giunta il primo cittadino andriese aveva riferito di presunte responsabilità nella gestione della macchina comunale da parte di alcuni dirigenti più attenti alle loro posizioni economiche, riferiva il sindaco, che ad altro. Stando a quanto riportato dal primo cittadino l'ingegner Di Bari era informato dei possibili disagi e nonostante i solleciti non avrebbe fatto quanto necessario per evitare i disagi ai cittadini. L'invettiva del sindaco nel suo post di oggi esplicita i più velati riferimenti a dirigenti e funzionali del comune di qualche giorno fa e di fatto raccoglie la nostra sollecitazione a non restare nel vago al momento degli attacchi. L'ingegner Di Bari, annoverato da Giorgino tra coloro che se ne fregano, sarà relatore nel corso di un convegno organizzato dall'opposizione di centrosinistra di Andria presso l'Officina San Domenico e previsto per le ore 18 venerdì 22 giugno. L'ingegner Di Bari